Gnocchi di patate con fundi porcini. Gli gnocchi di patate con fundi porcini sono un delizioso piatto tipicamente italiano dal sapore intenso e ricco, che si prepara con pochi e semplici ingredienti. Si tratta di un primo piatto di sicuro successo, che ben si adatta al periodo invernale, quando i funghi porcini sono più abbondanti e dal sapore più deciso. La preparazione degli gnocchi di patate con fundi porcini è piuttosto semplice, e non richiede più di mezz'ora, ma il risultato finale sarà di sicuro successo. Per preparare gli gnocchi di patate con fundi porcini, sono necessari i seguenti ingredienti. Patate, 1 chilo. Farina, 200 g. Funghi porcini, 400 g. Aglio, 1 spicchio. Vino bianco, 1 mezzo bicchiere. Prezzemolo, qualche rametto. Burro, 30 g. Sale, QB. Pepe, QB. Per prima cosa, lessare le patate. Per farlo, sbucciarle, lavarle e tagliarle a pezzi. Quindi, metterle in una pentola con abbondante acqua salata, e farle cuocere per almeno 15 a 20 minuti, finché non saranno ben cotte. Trascorso questo tempo, scolarle e passarle in uno schiacciapatate. A questo punto, preparare il composto con le patate. Per farlo, disporre le patate schiacciate in una ciotola e aggiungere la farina. Amalgamare gli ingredienti con le mani, fino a ottenere un composto omogeneo, che non si attacchi alle mani. Quindi, su un piano di lavoro, stendere l'impasto e formare delle striscioline sottili. Successivamente, preparare i funghi porcini. Per farlo, pulirli con un panno umido, quindi affettarli sottilmente. In una padella antiaderente, far soffriggere uno spicchio d'aglio in un filo d'olio extravergine.